È una sorta di trasmissione di energia positiva. Vedi se c'è pure la connessione wifi con queste pietre qua. La forza ascetica non si impossessa delle altre naufraghe. Guarda, apriamo. Scegliamo alle pietre di Fabrizio. Le sue vibrazioni positive, le sue pietre. È ancora pazza, non è cambiato? Un citrino. Una cosa spaccatopie. E guarda a terra quando cammini. Ho preso in pieno il suo citrino, il suo macigno. Ho rischiato praticamente un weekend in infermeria. Secondo me ci vuole uccidere. E la pietra diventa il citrino della discordia. Ma dove sta la mia pietra? Mi sei preso il citrino, non sta. Ma che vuoi da me? Ho fatto sparire questo citrino. Non lo troverà mai? Ciao. Diciamo, mi fanno girare le scatole. Io una cosa ti avevo chiesto. Ti ho detto, non toccare le mie pietre. Da stamattina che mi state rompendo questo fatto. Non l'ho presa io. Credo che fosse realmente arrabbiata. A me non mi prendi per il c***o, la pietra non sta. Ce l'aveva proprio nel cervello il fatto che mi dovesse far sparire. Qualcosa che per me ha un valore. Non c'ero, come devo dire? Ma dove sta? Ma non lo so. Ma chiedi a Blind, chiedi a Mercy, le hai chiesto. E allora non le ho presa io. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti